Direttore, insomma, alla luce di quello che abbiamo sentito quest'oggi, ripiene che i cittadini di Galatina e del circondario possano dormire sonni tranquilli? Assolutamente sì. Questo P&A per noi è uno dei tanti eventi che facciamo per essere più possibili vicini con il territorio. Il nostro modello di impresa prevede proprio questo, prevede un'impresa competente, un'impresa trasparente, un'impresa inserita nel territorio a tutti gli effetti. Noi facciamo parte del Salento e siamo contentissimi di far parte del Salento. Sappiamo bene che da un sacco di cemento è molto difficile poter percepire tutto quello che noi facciamo, la tecnologia che impieghiamo e soprattutto la professionalità delle persone che si occupano delle nostre attività. E quindi l'Open Day crediamo sia un evento molto, molto positivo e molto adatto a cominciare, almeno a divulgare quello che è il nostro modo di fare impresa, il nostro modello, il nostro set di valori che portiamo avanti. E' una delle imprese più sostenibili in Europa dal punto di vista del rispetto ambientale, ha parlato di una città etica, imprenditoriale? Assolutamente sì, lo stabilimento di Galatina è un stabilimento che assolutamente può competere con qualsiasi fabbrica europea in termini di qualità delle macchine e lo ripeto ancora una volta, in termini di qualità delle persone che poi operano con queste macchine. Le macchine da sole non sono garanzia di nulla. Quello che è garanzia di buona impresa è avere degli equipaggiamenti di primissima qualità e qui ci sono, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e qui noi le utilizziamo, ma soprattutto anche l'impiego di personale che si è attrezzato per far funzionare questo. C'è una collaborazione molto stretta anche con l'ARPA per monitorare tutto? L'ARPA è lente di controllo. Per noi è molto importante avere degli enti di controllo che siano capaci e che siano anche in qualche maniera a rispettare, ma a noi serve essere controllati. Quindi un ente di controllo autorevole per noi è benvenuto, proprio perché il nostro modello di fare impresa è un modello trasparente, è un modello sostenibile. Grazie. Grazie.